L'ultima di ieri, un autotrasportatore uccide con sei colpi di pistola ad Ercolano due giovani incensurati, di cui un laureando, scambiandoli probabilmente per ladri. Il delitto davanti alla sua villetta mentre i ragazzi chiacchieravano fermi in auto. Qualche giorno fa un tabaccaio di Santo Padre, in provincia di Frosinone, ha ucciso con un colpo di fucile un ladro rumeno. Un mese fa un assessore leghista alla sicurezza di Voghera ha sparato ed ucciso con un colpo di pistola un giovane molestatore seriale, leggi, l'articolo, dopo che quest'ultimo lo aveva colpito al volto con un pugno. E questi sono solo gli ultimi casi eclatanti. Prima ce n'è una lunga teoria. Ed allora la domanda che sorge spontanea è, siamo finiti nel Far West? E se sì, di chi ne è la colpa? La risposta è abbastanza semplice. Quello che sta accadendo e cioè l'eccessivo ed improprio utilizzo di armi da fuoco ma anche armi bianche si deve far risalire alla riforma fatta da Salvini. Ieri silenzioso sui fatti di Ercolano della legittima difesa che passò nel governo giallo-verde e da cui i 5 stelle non poterono opporsi per accordi di governo, ma comunque non presentarono ministri in aula al momento dell'approvazione. L'idea che si è diffusa da allora nella pubblica opinione è quindi quella che si può, anzi si deve far recorso ad armi per difendersi come se non esistesse più la normativa di fondo che prevede ancora pienamente l'eccesso colposo di legittima difesa. Quello che il popolo delle Alpi leghista, memore degli antenati barbari, non capisce, è che se uno eccede nella difesa e o uccide finisce in guai molto seri, nonostante la riforma salviniana. E quindi si finisce indagati comunque e il più delle volte si va a processo e si è pur condannati. Questo il secondo tempo del film che manca ai leghisti e ai giorgiani, nel senso di seguaci di Giorgia Meloni, e da tutti coloro che credono nel Far West e nella legge della Colt. Quello che non si è capito infatti è che l'Italia, per fortuna, non sono gli Stati Uniti e da noi vige ancora uno stato di diritto con una legge da applicare, magari ricordando ogni tanto che siamo la patria di Cesare Beccaria autore di quel fondamentale trattato dei delitti e delle pene del 1764. Grazie a tutti!